Un consiglio comunale convocato per questa mattina alle 9 e nemmeno riunito. Banchi dell'Aggiunta occupati dall'opposizione che chiama a raccolta la città intera per manifestare il dissenso contro un'amministrazione immobile e fantasma. La crisi della maggioranza del governo aquilano non accenna a rientrare. Dopo l'appello alla chiarezza politica del deputato leghista Luigi Deramo, che ieri sera, dopo un anno in cui anche lui si è fatto vedere poco e niente, ha rassegnato le sue dimissioni da assessore e dopo il nuovo appello del consigliere dei Fratelli d'Italia, Giorgio De Matteis, ad azzerare la Giunta, è arrivata ieri sera la nomina del consigliere Raffaele Daniele a vice sindaco, sostituirà Guido Quintino Liris passato alla Regione. Una scelta che evidentemente ha creato fibrillazioni fra i gruppi della maggioranza che rivendicano spazio. Ecco che questa mattina la Giunta Comunale e i consiglieri di maggioranza hanno disertato il Consiglio, con l'eccezione dei due assessori Alessandro Piccinini e Francesco Bignotti. Una crisi che preoccupa non soltanto per la gestione dell'anniversario del sisma del 2009, ma anche per la ricostruzione sempre più al palo. E intanto le opposizioni chiedono le dimissioni del sindaco Biondi e dell'intera amministrazione comunale. È uno spettacolo squallido, c'è molta amarezza, ma come si fa a nominare un consigliere comunale, vice sindaco e poi dimenticarsi di procedere con la surroga del primo dei non eletti, in maniera tale che il Consiglio Comunale fosse completo nelle sue impostazioni con tutti i consiglieri. Ormai è una guerra per bande, ognuno cerca di trovare la massima utilità nello svolgere il ruolo di consigliere comunale, sia come partiti che come sindaco. Qualcuno è diventato assessore regionale, qualcuno è diventato consigliere regionale. È una schifezza vera, perché la città non è governata. Questi sono consiglieri che, come dicevamo da tempo, sono stati eletti, è una maggioranza che è stata eletta per caso, perché se ci ricordiamo come è andata l'elezione nel 2017, è stata eletta per caso e per caso sta governando, senza rendersi conto che l'Aquila non ha bisogno di questo. Il sindaco prendesse, io l'ho detto prima in conferenza stampa, prendesse le sue responsabilità. Se non è in grado di governare, lasci, si dimetta, perché la città dell'Aquila nel frattempo ha capito che al di là del vento nazionale che tira a destra, si può essere bravi a destra, ma si può essere anche scellerati come questi che abbiamo qui all'Aquila. Grazie.